Quelle a cavallo della mezzanotte non sono soltanto ore di festa. Per tutti coloro che lavorano nelle forze dell'ordine e nel soccorso sono momenti di lavoro. Siamo andati a raccogliere gli auguri ai cittadini nelle loro sedi e dalle pattuglie in servizio. Un buon 2023 dai carabinieri del comando provinciale di Pistoia. Tantissimi auguri da tutta la polizia di Stato per un nuovo anno che sia pieno di gioia e felicità. Tanti auguri dalla polizia. Come sapete come altri enti lavorano anche i Vigili del Fuoco la notte di San Silvestro sono impegnati nei turni ordinari di soccorso. E quindi auguriamo a tutta la cittadinanza a Pistoiese una buona fine e un buon inizio. Vi invitiamo dopo due anni a stare con noi per la Befana ovviamente il 6 gennaio tutti in Piazza del Duomo. Facciamo gli auguri per un buon 2023 da tutto il personale del 118 e della continuità assistenziale di questa sera. Saluti. Auguri e buon anno dalla Croce Rossa italiana di Pistoia. Auguri a tutti e speriamo di non uscire per gli obbi motivi, per noi ma anche per gli altri. Se poi tutto è per gli altri. Per gli altri. Allora auguri a tutti dalla misericordia di Pistoia, buon anno e felice anno nuovo a tutti voi. Un applauso. Auguri! Auguri! Grazie! Grazie.